Lo prende il pesce? Il tuo libro? Oh, sì, sì, lo prende. Ha un lieto fine. Non direi. Il vecchio ha incontrato il suo più grande avversario quando pensava di aver chiuso quel capitolo. Perché non l'ha lasciato andare allora? Il vecchio rimane il vecchio, il pesce rimane il pesce. Deve rimanere te stesso nel mondo, ad ogni costo. Ehi, nonno, scommetto che non spingerai Carrelli all'altro lavoro, eh? Indovinato. Vuoi farmi un rimborso quando hai finito? Apri la cassa, subito. Muoviti. Dammi l'anello. No, era di mia madre. Ti prego. Tranquilla, c'è. E di che parla? Parla di un uomo che è un cavaliere dalla fulgita armatura. Ma vive in un mondo dove i cavalieri non esistono più. Il mio anello. Io credo che tu possa essere ciò che vuoi. Cambia il tuo mondo. Avevo promesso di non tornare mai più a essere quell'uomo. Poi un giorno qualcuno fa una cosa terribile a una persona che conosce più. E tu ti metti in mezzo. Perché puoi. Sono qui per una ragazza. 16 secondi. 19 secondi. Non hai capo fuori cinque toccone. Era il centro operativo nell'East Costa della mafia russa. Un uomo che ha quella capacità. Voglio sapere chi è davvero. Non si fermerà finché non avrà ucciso te e quelli che hai. Questa è roba d'alte sfere. Ti basta? Perché posso continuare. Mattone dopo mattone. Morto dopo morto. Che cosa vedi guardandomi? E tu cosa vedi guardandomi? E' più tardi a la primavera. Perché potremmo? La 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 la. E' più tardi a la la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.